Allora, siamo entrati nell'ultima decade del mese di gennaio e c'è chi fatica ancora ad affrontare con la giusta energia il nuovo anno. Le cause di questo intorpidimento psicofisico possono essere svariate, naturalmente più o meno serie. Noi oggi ne approfondiamo una tra le più accreditate, ma nello stesso tempo anche tra le più trascurate, l'intestino sofferente. E ci aiuta Antonio Moschetta, professore ordinario di medicina interna all'Università Aldo Moro di Bari. Buongiorno, buongiorno. Allora, partiamo da qui, partiamo dall'intestino, l'intestino sofferente. Sì, indubbiamente l'intestino è per noi questo tubo, il primo tubo di collegamento con l'esterno e con il cibo. Dobbiamo ricordarci che il numero di neuroni che avvolgono l'intestino è uguale al numero di neuroni del cervello, quindi la nostra sensibilità, il nostro sentire, la funzione intestinale è fondamentale. Per cui dobbiamo porre attenzione ai segnali che ci dà, il meteorismo, il gonfiore, insomma un po' anche quella stanchezza dopo pranzo, quella incapacità di essere perfetti nell'agire, nel pensare, può dipendere dal cibo che abbiamo introdotto, dagli orari in cui l'abbiamo introdotto. Da troppo cibo. Da troppo cibo, ma guardi non solo, anche da quale cibo abbiamo introdotto e a che ora lo abbiamo introdotto. La scienza ci sta dando tante novità nel rapporto tra le nostre cellule, i batteri e il cibo che introduciamo. Spesso diciamo che il nostro intestino è il secondo cervello, questo un po' ce lo spiegava, ma come possiamo essere sicuri che il malessere che magari avvertiamo dipenda proprio dall'intestino? Innanzitutto attraverso i sintomi che abbiamo appena menzionato, poi dobbiamo ricordarci che questo tubo è in continuo movimento. Pensate, anche a digiuno si contrae la peristalsi che è necessaria per far muovere il bolo dall'alto verso il basso, viene in alcuni di noi avvertita come un problema e viene avvertita soprattutto in coloro che hanno maggiore fermentazione. Avere più aria nell'intestino per via del rapporto tra il cibo e i batteri comporta, durante il movimento di queste onde che noi possiamo misurare, questo transito, comporta la sensazione di dolore crampiforme, quella famosa colite che a volte viene etichettata come colite nervosa, che noi pensiamo invece che bisogna attenzionare maggiormente per meglio sentire quello che questo tubo ci dice. E come si rimettono le cose a posto? La minestrina, la dieta in bianco, che si fa? Beh, questi rimedi della nonna, al fine il concetto serio è che noi oggi sappiamo che attraverso i carboidrati o l'alcol, noi diamo benzina ad alcuni ceppi batterici che possono fare fermentazione, attraverso gli acidi grassi diamo benzina ad altri ceppi e quindi quello che avviene all'interno del nostro intestino è fondamentale. La nutrizione può variare i nostri sintomi e può aiutarci, anche il digiuno a volte dopo una gastroenterite, ma va fatta ad persona, ma va conosciuto lo stato di quell'intestino attraverso gli esami che si possono svolgere. Tipo per esempio, ecco, si parte da un esame delle feci per capire se c'è il sangue occulto che è importante per lo screening, fino ad arrivare alla colonoscopia che è l'esame che ci dice se questo tubo è in condizioni di salute o meno. Ma vede, proprio lì, spesso noi facciamo una colonoscopia, vediamo un tubo normale e quindi diciamo che i sintomi dei pazienti sono tutti da debitare allo stress, invece non è così. Questa cosa si ridimensiona? Ecco, il discorso dello stress un po' va ridimensionato, nel senso che è vero che tutti abbiamo i momenti di stress, ma noi dobbiamo guardare al paziente per farlo stare meglio. E per farlo stare meglio dobbiamo capire cosa c'è in quel colon. Va fatta la colonoscopia, va fatta attenzione non solo a quello che si vede, ma anche a quello che sta sotto la mucosa, sotto il tubo, le cellule che sono presenti lì. Allora, io ho sentito spessissimo parlare di microbiota intestinale. Che cos'è? A cosa serve? Sì, ne abbiamo parlato tanto. Il microbiota intestinale è quell'insieme di germi, batteri, virus, ma anche miceti che sono presenti in noi. Vedete, ha un'importanza notevole perché, se vogliamo, è il primo incontro con il cibo, come abbiamo appena detto, è varia da individuo ad individuo. E noi oggi sappiamo che dipende dalla benzina che noi diamo ai ceppi. A seconda di quello che mangiamo, gli studi del trapianto fecale, gli studi dello spostamento delle persone da una parte all'altra del globo, ci hanno insegnato che cambiare i propri batteri nell'intestino può modificare la nostra suscettibilità alle malattie. Senta, abbiamo delle foto da farle vedere che ci possono aiutare, che possiamo commentare insieme. Sì, per esempio, guardate a casa, a sinistra c'è un colon così come sembra alla colonoscopia. Quindi il collega endoscopista lo vede e dice tutto normale. Ma a destra invece, dopo una biopsia, anche un colon che sembra normale può avere un accumulo di cellule dell'infiammazione di vario tipo. E questo ci dice che prima di etichettare in una colite nervosa dobbiamo pensare che in realtà sotto questo tappeto ci può essere infiammazione dovuta a un'interazione sbagliata con il cibo, con la nostra immunità. Ed è questa che va corretta, la cosiddetta colite microscopica, che sta assumendo un ruolo importante. E perché tutto questo? Perché se c'è infiammazione c'è permeabilità e possono passare una serie di composti chimici che sono loro magari a guidare la nostra stanchezza dopo pranzo, la nostra difficoltà di agire col fisico ma anche con il pensiero. E perché no? Lo stress emotivo. E allora, diciamo, avendo inquadrato... È sempre più difficile mangiare. È sempre più complicato mangiare. Però è vero che abbiamo molte più opportunità di prima, no? Esatto. Adesso noi dobbiamo mangiare bene agli orari giusti e con gusto. Orari giusti? Orari giusti. Sempre quelli? No, no. Possiamo anche modificarli, ma sapere cosa mangiare in orari diversi perché il nostro corpo ha bisogno di benzina diversa. La pratica clinica l'avrà condotta a delle evidenze. Beh, le evidenze sono importanti. Guardi, in questo campo pensi un po' che si pensava che tutto questo non esisteva neanche dieci anni fa. E invece la scienza, la vera creatività è questa. Il sequenziamento del microbiota, l'interesse verso le colite microscopiche. Per cui un messaggio da dire a casa. Ascoltate di più l'intestino, modificate la nutrizione, ma fate attenzione prima di etichettarvi come persone con la colite da stress perché in realtà il rapporto con gli alimenti, le cellule dell'infiammazione che sono presenti sotto l'intestino possono spiegare molti dei nostri sintomi. Si possono curare e si possono fare percorsi personalizzati e quindi vincenti. Soprattutto per prevenire che l'infiammazione possa portare alla formazione di polipi e quindi andare verso il cancro del colon. Il rapporto col cibo deve essere ottimale per essere meno infiammati, migliore qualità di vita e prevenzione del cancro. Scusi, un'ultimissima cosa, perché uno stato di infiammazione permanente è come dire una pericolosa premessa per il tumore. Assolutamente e sapere di averlo significa conoscere il proprio rischio e pertanto avere speranza di guarigione perché ci si sottopone agli screening per scoprire in tempo le malattie. Grazie professor Moschetta per la sua chiarezza, grazie per essere stato con noi e per ci dato queste importantissime indicazioni e importantissimi consigli.